un oggetto tra le mie mani un oggetto che ho amato tantissimo e che continuo ad amare questo oggetto si chiama view master è un oggetto degli anni 70 80 io da bambino ci passavo ore ed ore con questo canno questa specie di cannocchiale eccolo qui il view master qualcuno di voi se lo ricorderà la cosa meravigliosa che diciamo uno dei primi oggetti per la visione tridimensionale funziona così vi faccio vedere qui c'era il film se vedete queste piccole diapositive questa era flipper il delfino innamorato si inseriva così il dischetto e poi iniziavi a guardare in tridimensionale le immagini che scorrevano all'interno del visore per me è sempre stata una meraviglia calarmi all'interno era come proprio vedere un film peccato che non posso forse riesco a farvi vedere vediamo ma non penso che si riesca a vedere all'interno penso che sia quasi impossibile e qui avevo flipper il delfino innamorato poi il safari quindi qui sono tanti animali bellissima vedere la luce non me lo permette vediamo se facendo così riesco a farvi vedere qualcosina però penso che sia difficile e si vedeva tutto in tridimensionale ad esempio altre tarzan la storia di tarzan ha di nuovo il safari ricordo che avevo anche se non sbaglio ecco cenerentola bellissima questa qui era cenerentola cenerentola tutta la storia di cenerentola tutta vedete con queste piccole diapositive si scorrevano queste diapositive e si vedeva la storia in tridimensionale io passavo ore ed ore adesso mi guardo cenerentola effetto cenerentola ovviamente più ti rivolgevi ad una fonte di luce ecco qui e più tappariva l'immagine tridimensionale all'interno del canocchiale poi ci sono i topini le sorellastre i topini che preparano il vestito meraviglioso la cosa che mi affascina di questo oggetto è che lasciava un grandissimo spazio alla fantasia la storia appariva qui la piccola ecco la storiellina si leggeva qui si leggeva la storiellina e dentro si vedeva praticamente l'immagine ma la cosa bellissima di questi occhiali è che avendo soltanto diciamo un'immagine e una piccola scritta tu dovevi crearti dentro di te quella che poteva essere la storia ed è così che io ho iniziato anche a mi sono innamorato dei racconti delle favole ho iniziato a scrivere favole a scrivere storie proprio utilizzando questi oggetti questo era uno degli oggetti poi ne avevo un altro un proiettore piccolo così allora io prendevo un pezzo del muro della mia camera mi sedevo a terra e questo andava a pile questo proiettore andava con proprio delle torce le torce quelle grandi si inserivano quattro torce prendevo questo proiettore mi sedevo a terra lo puntavo verso la parete della della camera e lì iniziavo a proiettare queste storie ed era una sorta era un film no velocità la determinavi tu iniziavi a far scorrere queste filmine ma era una cosa molto semplice di plastica ma veramente meravigliosa se la trovate e trovate il filmine vi consiglio compratelo per i vostri bambini e se ne avete uno in più regalatemelo grazie ciao